Nel pomeriggio di una rigida giornata d'inverno, quando il sole tornò a brillare con fredda limpidezza dopo una lunga tempesta, due bambini chiesero alla mamma il permesso di correre fuori a rocare con la neve fresca. La maggiore tra i due era una bimba che, per la sua indole dolce e modesta e perché era considerata molto bella, i genitori e gli amici di casa solevano chiamare Violetta. Ma suo fratello era noto col nomignolo di papavero, per il colorito rosso acceso del visetto rotondo che faceva pensare alla luce del sole e a grandi fiori vermigli. Bisogna sapere che il padre di questi due bambini, un certo signor Lindsay, negoziante in ferramenta, era un uomo ottimo ma straordinariamente prosaico. Su tutto quello che si presentava alla sua mente, aveva l'abitudine tetragona di formarsi sempre l'opinione del cosiddetto buonsenso. Con un cuore tenero, quasi come ogni altro uomo, egli aveva una testa dura e impenetrabile, e perciò forse vuota come una di quelle pentole di ferro che vendeva. Nel carattere della madre, invece, vi era una vena di poesia, un tocco di bellezza ultraterrena. Fiore delicato e rugiadoso, sopravvissuto alla sua immaginosa giovinezza, e che si manteneva ancora vivo fra le realtà monotone del matrimonio e della maternità. Violetta e Papavero, dunque, come avevo cominciato a raccontarvi, supplicarono la mamma di lasciarli correre fuori a giocare con la neve fresca, poiché, se cadendo giù dal cielo grigio era sembrata tanto lugubre e cupa, appariva così allegra ora che il sole la illuminava. I due bambini abitavano in una città e per giocare non avevano altro terreno che un piccolo giardino davanti alla casa. Lo separava dalla strada un muro bianco, un pero e due o tre susini lo ombreggiavano e alcuni cespi di rose crescevano proprio davanti alla finestra del salotto. Ma in quel tempo alberi e piante erano spoglie e la neve leggera avviluppava i rami, formando così una specie di fogliamme invernale, con un ghiacciolo pendurato qua e là, a guisa di frutto. «Sì, Violetta, sì, mio piccolo papavero», disse la mamma affettuosa. «Potete andare a giocare con la neve fresca». La buona signora avvolse dunque i suoi due tesori in corpetti di rana e in giacche imbottite. Mise loro una sciarpa intorno al collo, infilò ghette a righe in ogni paio di piccole gambe e grossi guanti di lana alle mani e diede loro un bacio per uno, quasi talismano, per tenere a distanza il signor Gelo. E i due bambini scapparono fuori di casa, con una corsa e un salto che li portò subito nel bel mezzo di un gran mucchio di neve, da cui Violetta sbucò simile a un fringuello, mentre il piccolo papavero ne uscì a naspando, col visetto rotondo tutto in fiamme. Come si divertirono! A guardarli scherzare nel giardino invernale, si sarebbe pensato che l'oscura e spietata tempesta fosse stata inviata solo per offrire a Violetta e papavero un nuovo modo di divertirsi e che essi a loro volta fossero creati, come gli uccelli della neve, per godere solo della tempesta e del candido manto che essa distende sulla terra. Alla fine, quando si furono imbiancati a vicenda con manate di neve, Violetta, dopo aver riso di gusto per l'aspetto del piccolo papavero, ebbe una nuova idea. Dopo aver riso di gusto per l'aspetto del piccolo papavero, ebbe una idea nuova. «Sembri proprio un fantoccio di neve, papavero», disse, «se però le tue guance non fossero così rosse». «E mi fai venire un'idea. Facciamo un fantoccio con la neve, che rappresenti una bambina, e sarà la nostra sorella e correrà per il giardino e giocherà tutto l'inverno con noi». «Non sarebbe carino?» «Oh, sì», esclamò papavero, parlando più distintamente che poteva, poiché era ancora piccolo. «Sarà carino, e la mamma la vedrà». «Sì», rispose Violetta, «la mamma vedrà la nuova bambina, ma non dovrà farla entrare nel salotto caldo, perché sai, alla nostra sorellina di neve il caldo non piacerà». E immediatamente i bambini si accinsero alla grande impresa di fare un fantoccio di neve che corresse per il giardino. Mentre la loro mamma si sedeva presso la finestra e aveva udito in parte il loro discorso, non poteva fare a meno di sorridere della serietà con cui si misero al lavoro. Sembrava che credessero veramente di non trovare alcuna difficoltà nel fabbricare con la neve una bambina viva. E a dire il vero, se mai sia possibile operare miracoli, sarà mettendoci al lavoro proprio con quella semplicità e quella fede con cui ora Violetta e Papavero si accingevano a compierne uno, senza neanche sospettare che si trattasse di un miracolo. Così pensava la madre. E pensava anche che la neve fresca, appena caduta dal cielo, sarebbe un eccellente materiale per creare esseri nuovi se non fosse tanto fredda. Indogio ancora un momento a guardare i bambini, godendo nell'osservare le due figurine. La bambina, alta per la sua età, aggraziata e agile e così delicatamente colorita che sembrava un pensiero ilare più che una realtà fisica, mentre Papavero, più largo che lungo, tropperellava sulle gambe corte e robuste, tozzo come un elefante, sebbene non certo altrettanto grasso. Poi la madre riprese il suo lavoro. Che cosa fosse, non ricordo, ma o adornava un berretto di seta per Violetta o rammendava un paio di calze per le corte gambette del piccolo Papavero. Pure non poteva fare a meno di volgere di quando in quando il capo verso la finestra per guardare come procedevano i bambini col loro fantoccio di neve. Il vedere all'opera quei due cari figliuoli pieni di vita era una vera delizia. E poi meravigliava davvero a osservare con quanta cortezza e maestria se la cavavano nel loro lavoro. Violetta aveva assunto la direzione e diceva a Papavero quel che doveva fare, mentre con le sue dita delicate ella modellava tutte le parti più difficili del fantoccio di neve. In realtà non sembrava davvero che la figura fosse modellata dai bambini, ma anzi che si formasse da sé sotto le loro mani, mentre essi vi giocavano intorno cinguettando. La madre ne fu molto sorpresa e la sua sorpresa cresceva a mano a mano che ella eseguiva il lavoro. «Che bambini eccezionali sono i miei!» pensava sorridendo d'orgoglio materno e sorridendo un po' anche di se stessa per essere tanto fiera di loro. «Quali altri fanciulli avrebbero saputo fare con la neve al primo tentativo un fantoccio tanto simile alla figura di una bambina?» «Bene, ma ora devo finire il vestitino nuovo di Papavero. Suo nonno viene domani e voglio che il piccino sia bello». Riprese il vestito e ben presto fu tutta assorbita dall'opera del lago, come i due bambini dal loro fantoccio di neve. Mentre l'ago correva qua e là lungo le cuciture dell'abito, la madre si rendeva il lavoro lieve e felice ascoltando le aeree voci di Violetta e Papavero. Parlavano continuamente fra loro, le lingue erano in moto quanto i piedi e le mani, solo a intervalli e laudiva distintamente quel che dicevano, ma aveva la dolce impressione che fossero in una disposizione di vivo affetto e si divertissero molto e che l'impresa di plasmare il fantoccio di neve procedesse bene. Di tanto in tanto, se accadeva che Violetta e Papavero alzassero la voce, le loro parole giungevano alla madre chiare come se pronunziate nel salotto stesso dove ella sedeva. Ah, con quale piacere quelle parole le risuonavano nel cuore, pur se, dopo tutto, non significavano nulla di così saggio o meraviglioso. Ma dovete sapere che una madre ascolta quel cuore assai più che con le orecchie e così accade spesso che ella sia deliziata da trilli di musica celeste quando gli altri non possono udire nulla di simile. Papavero gridò a Violetta al fratello che era andato in un altro punto del giardino portami un po' di quella neve fresca laggiù in quel cantuccio più lontano dove non l'abbiamo calpestata. Mi occorre per modellare il petto della nostra sorellina di neve. Sai, per il petto bisogna che sia pulissima proprio come è venuta giù dal cielo. Eccola, Violetta rispose Papavero col suo tono brusco ma pur così dolce mentre si avvicinava annaspando tra i mucchi di neve in parte calpestati. Ecco la neve per il suo pettuccio oh Violetta come comincia a diventare bella sì fece Violetta pensosa e calma la nostra sorellina di neve è molto carina non sapevo affatto Papavero che saremmo riusciti a fare una bambina così carina. Ascoltando i loro discorsi la madre pensava che proprio sarebbe stato giusto e molto bello che fate o meglio ancora angioletti fossero scesi dal paradiso a giocare invisibili con i suoi due tesorini per aiutarli a fare il loro fantoccio di neve dandogli le fattezze dell'infanzia celeste. Violetta e Papavero non si sarebbero accorti dei loro immortali compagni di gioco solo avrebbero veduto la figura divenire bellissima a mano a mano che essi vi lavoravano e l'avrebbero creduta tutta opera loro semmai i bambini mortali abbiano meritato simili compagni di gioco sono i bambini miei si disse la madre e di nuovo sorrise del suo orgoglio materno ma l'idea si impossessò ugualmente della sua fantasia e di quando in quando davo uno sguardo fuori dalla finestra quasi immaginando di vedere bimbi del paradiso dai riccioli d'oro giocare con la sua Violetta anch'ella con i riccioli d'oro e col suo papavero dalle guance lucenti vi fu per qualche momento un mormorio fitto e serio ma indistinto delle due voci infantili mentre Violetta e papavero lavoravano insieme in piano accordo Violetta sembrava essere ancora la mente direttiva mentre il piccolo papavero agiva più da operaio portando la neve da lontano e da vicino eppure era chiaro che anche lui il monelluccio si intendeva bene del lavoro papavero papavero gridò Violetta perché il fratello era di nuovo al lato opposto del giardino portami quelle leggere ghirlande di neve che si sono posate sui rami più bassi del pero salendo sul mucchio di neve papavero ci arrivi facilmente mi occorrono per fare i riccioli alla testa della nostra sorellina di neve eccoli Violetta rispose il bambino attenta a non romperli brava brava com'è carina non è un amore disse Violetta con tono soddisfatto e adesso ci vuole qualche pezzetto di ghiaccio lucido per fare gli occhi scintillanti ancora non è finita faremo vedere alla mamma com'è bella ma papà dirà ah sciocchezze venite dentro che fa freddo chiamiamo la mamma perché si affacci disse papavero e si mise a gridare allegramente mamma 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 affacciati e guarda che bella bambina stiamo facendo la madre posò il lavoro per un momento e si affacciò alla finestra ma accade che il sole era uno dei giorni più corti dell'anno era sceso così presso all'orizzonte che la sua luce uccidua giunse obliquamente agli occhi della signora e la ne rimase abbagliata come si può immaginare e non poté distinguere bene quel che si trovava nel giardino pure fra tutto il vivo cecante barbaglio del sole e della neve fresca e la vide una figurina bianca che sembrava imitare a meraviglia le fattezze umane e vide violetta e papavero a dire il vero guardò più i bambini che il fantoccio li vide ancora al lavoro papavero che portava altra neve e violetta che l'applicava alla figura con tutta l'arte di uno scultore che aggiunge creta al suo modello ma per poco chiaramente che distinguesse la bambina di neve la madre pensò tra sé che mai vi era stato prima un fantoccio affoggiato con tanta abilità né mai due piccini così cari per fabbricarlo fanno tutto meglio degli altri fanciulli disse con molta compiacenza non c'è da meravigliarsi se fanno meglio anche i fantocci di neve tornò al suo lavoro e si affrettò quanto più possibile il crepuscolo era vicino e il vestito di papavero non era ancora finito e il nonno sarebbe arrivato col treno l'indomani mattina abbastanza presto le agili dita correvano perciò sempre più rapide anche i bambini in giardino continuavano a lavorare attivamente e la madre ascoltava tutte le volte che riusciva ad afferrare una parola si divertiva a osservare come la loro piccola fantasia fosse stata presa dal lavoro e ne fosse trascinata sembravano credere veramente che la bambina di neve avrebbe corso per il giardino e giocato con loro che compagna carina avevano per giocarci insieme tutto l'inverno disse violetta spero che papà non avrà paura che ci faccia prendere un raffreddore non le vorrà molto bene papavero oh sì esclamò papavero e l'abbraccerò stretta e si siederà vicino a me e berrà un po' del mio latte caldo oh no papavero rispose violetta con saggia gravità questo proprio non va il latte caldo non farebbe bene alla nostra sorellina di neve i bambini di neve come lei non mangiano che i ghiaccioli no no papavero non bisogna darle nulla di caldo da bere e vi fu un breve intervallo di silenzio poiché papavero le cui gambette non si stancavano mai era andato di nuovo in pellegrinaggio all'altro capo del giardino a un tratto violetta gridò tutta allegra guarda papavero vieni presto un riflesso di quella nuvola rosa le ha illuminato le guance e ora non va più via non è bello sì è bello rispose papavero sillabando la parola con aria riflessiva oh violetta ma guarda i capelli sono come l'oro oh certo fece violetta tranquillamente come se fosse una cosa normale sai quel colore viene dalle nuvole dorate che si vedono lassù nel cielo è quasi finito ormai ma bisogna farle le labbra rosse più rosse delle guance forse papavero diventeranno rosse se noi due le baciamo e la madre udì due piccoli schiocchi vivaci come se i suoi bambini stessero baciando il fantoccio di neve sulle labbra gelide ma parve che questo non rendesse le labbra della sorellina di neve abbastanza rosse e violetta propose di invitarla a baciare a sua volta la guancia vermiglia di papavero su sorellina di neve dammi un bacio esclamò papavero ecco ti ha baciato concluse violetta e ora le sue labbra sono proprio rosse ed è anche un po' più colorita oh che bacio freddo esclamò papavero proprio allora una folata di puro vento di ponente passò sul giardino facendo tremare le finestre del salotto ed è da un tale senso di gelido inverno che la madre fu sul punto di battere il vetro col dito in cui era infilato il ditale per ordinare ai bambini di rientrare in casa quando entrambi la chiamarono a una voce il tono non era di sorpresa sebbene si sentisse chiaramente che erano elettrizzati sembravano invece rallegrarsi di un qualche avvenimento che si fosse verificato allora ma su cui avevano contato fin da principio mamma mamma abbiamo finito la nostra sorellina di neve e ora corre per il giardino con noi oh che piccini pieni di fantasia sono i miei bambini pensò la madre mentre metteva gli ultimi punti dell'abito di papavero e quel che è più strano fanno quasi diventare anche me una bambina come loro per poco ecco non posso fare meno di credere che il fantoccio di neve si sia animato mammina cara gridò Violetta ti prego affacciati e guarda che bella compagna di gioco abbiamo così pregata la madre non poté tardare ancora a guardare dalla finestra il sole era ormai scomparso dal cielo lasciando però dietro a sé un ricco retaggio del suo splendore tra quelle nuvole purpure e dorate che rendono così sontuosi i tramonti invernali ma non vi era né sulla finestra né sulla neve il minimo laggio di sole nel minimo barbaglio e la buona signora pote guardare nel giardino e vedervi tutto e tutti e che cosa credete che vedesse Violetta e Papavo erano naturalmente i suoi due piccini diretti ma chi o che cosa vide oltre a loro ebbene se mi credete vi era la figuretta esile di una bambina tutta vestita di bianco con le guance rose e i riccioli color d'oro che giocava per il giardino coi due bimbi sebbene fosse un'estranea la bambina sembrava in confidenza con Violetta e Papavo come essi con lei quasi fossero stati compagni di gioco per tutti gli anni della loro giovane vita la madre pensò tra sé che di certo doveva trattarsi della figlia di uno dei vicini vedendo Violetta e Papavo in giardino la piccina doveva aver traversato la strada per giocare con loro e la buona signora andò alla porta di casa pensando di invitare la piccola fuggiasca nel suo tiepido salotto poiché calato ormai il sole l'aria fuori di casa si stava già facendo molto fredda ma aperta la porta si fermò un istante sulla soglia incerta se invitare la bambina a entrare e perfino se dovesse parlarle anzi fu quasi in dubbio se fosse proprio una bambina vera o solo una ghirlanda leggera di neve fresca portata qua e là per il giardino dal gelido ponente certo vi era qualche cosa di molto singolare nell'aspetto della piccola estranea fra tutti i bambini del vicinato la signora non riusciva a ricordare quel volto col suo puro candore con quella delicata tinta rosia e i riccioli dorati che le danzavano intorno alla fronte e alle guance e in quanto al vestito che era tutto bianco e palpitava al vento nessuna donna ragionevole l'avrebbe messo a una bambina per mandarla fuori a giocare nel cuore dell'inverno quella madre tenera e amorosa era brividì solo a guardare i piedini calzati appena ad un paio di sottilissime pianelle bianche ma per quanto etereo il suo abito fosse la bambina non sembrava soffrire affatto il freddo e danzava sulla neve con tanta leggerezza che la punta dei suoi piedini quasi non vi lasciava orma mentre Violetta riusciva appena a starle pari e papavero con le sue gambette corte era costretto a rimanere indietro ad un tratto durante il gioco la strana bambina si mise tra Violetta e papavero e prendendoli per mano venne avanti con loro saltellando allegramente ma quasi subito papavero tirò via la sua manina e cominciò a stropicciarsela come se le dita gli formicolassero dal freddo mentre anche Violetta si liberava sebbene meno bruscamente dicendo con gravità che era meglio non prendersi per mano la damicella in abito bianco non pronunciò parola e continuò a danzare allegramente come prima se Violetta e papavero non volevano giocare con lei e l'avrebbe trovato un ottimo compagno di giochi nel ponente vigoroso e freddo che continuava a spingerla qua e là per il giardino mostrandosi con lei in tanta familiarità da sembrare che fossero vecchi amici la madre intanto rimaneva sulla soglia domandosi come potesse una bambina assomigliare tanto a un mulinello di neve o come un mulinello di neve potesse somigliare tanto a una bambina chiamò Violetta e le parlò a bassa voce Violetta tesoro come si chiama quella bambina le chiese abita vicino a noi come mamma cara rispose Violetta ridendo all'idea che la madre non riuscisse a comprendere una cosa tanto semplice questa è la nostra sorellina di neve che abbiamo fatto ora si mammina esclamò papavero correndo verso la madre guardandola in volto con semplicità è il nostro fantoccio di neve non è una bimba molto carina in quel momento uno stormo di uccelli scese volteggiando per l'aria come era naturale evitarono Violetta e papavero ma e questo parve strano volarono subito verso la bambina dall'abito bianco alezzarono ansiosi intorno al suo capo si posarono sulle sue spalle e sembrarono trattarla come una vecchia conoscenza la parte sua e la parve contenta di vedere quegli uccelletti i nipotini del vecchio inverno quanto essi di vedere lei che li accolse tendendo le mani allora tutti gli uccelletti cercarono di posarsi sulle sue due palme e sui suoi dieci ditini affollandosi fino a schiacciarsi in un l'altro con un gran battere delle loro esili ali un grazoso uccelletto si rannicchiò teneramente sul suo seno un altro posò il becco sulle sue labbra erano allegri e sembravano trovarsi nel loro elemento come forse li avrete veduti quando giocano con una tempesta di neve violetta e papavero ridevano del grazioso spettacolo e godevano nel vedere la loro nuova amichetta divertirsi con quei piccoli visitatori alati come se avessero preso parte al divertimento violetta disse la madre molto perplessa dimmi la verità senza scherzare chi è quella bambina ma cara mamma rispose violetta guardando in volto la madre con serietà e visibilmente sorpresa che le occorressero altre spiegazioni ti ho detto la verità è il fantoccio di neve che abbiamo fatto papavero ed io anche papavero te lo potrà confermare sì mamma dichiarò papavero con espressione di molta gravità sul visetto vermiglio questa è la bambina di neve non è carina ma la mano fredda mamma così fredda così fredda mentre la mamma era ancora agitante su quel che dovesse pensare e dovesse fare il cancello d'ingresso del giardino si spalancò e il padre di violetta e di papavero entrò avvolto in un ampio cappotto di lana blu con un berretto di pelliccia che gli copriva gli orecchi ed enormi guanti alle mani il signor Lindsay era un uomo di mezza età con un'espressione stanca eppure allegra sul volto arrossato dal vento e dal gelo come se dopo aver lavorato tutto il giorno fosse contento di tornare nella sua tranquilla casa alla vista della moglie e dei bambini gli occhi gli si illuminarono ma non poté trattenere qualche parola di sorpresa trovando tutta la famiglia all'aperto in una giornata così rigida e per di più dopo il tramonto scorse subito la piccola e stranea candida che correva quella per il giardino come una danzante ghirlanda di neve e lo stormo di uccelli che le volteggiavano intorno al capo chi è mai quella bambina si informò quell'uomo di buonsenso la madre deve essere certamente matta per lasciarla uscire in una giornata rigida come è stata oggi con quel leggero abitino bianco e quelle pantofoline mio caro gli rispose la moglie su quella bambina ne so quanto te suppongo che sia la figlia di qualche vicino violetta e papavero aggiunse ridendo di se stessa perché riferiva un così assurdo racconto insistono che essa è solo un fantoccio di neve che per quasi tutto il pomeriggio sono stati occupati a fabbricare qui nel giardino nel dire questo la madre gettò un'occhiata verso il punto dove i bambini avevano fatto il loro fantoccio di neve e quale fu la sua sorpresa nel vedere che di tanta fatica non rimaneva più la minima traccia neppure un'ombra del fantoccio nessun mucchio di neve nulla all'infuori della impronta di piccoli passi intorno a uno spazio vuoto è molto strano disse che cosa è strano mammina chiese violetta papà caro non capisci com'è questo è il nostro fantoccio di neve che papavero ed io abbiamo fatto perché volevamo un altro compagno per giocare non è vero papavero sì papà disse il vermiglio papavero questa è la nostra sorellina di neve non è bella che sciocchezze e bambini esgramò l'ottimo e onesto padre che come abbiamo già accennato considerava troppo tutte le cose secondo il buon senso non raccontate a me di far essere viventi con la neve andiamo cara moglie questa piccola stranea non deve rimanere fuori all'area rigida un minuto di più la porteremo nel salotto e le darai una cena di latte caldo col pane facendola stare meglio che puoi intanto io mi informerò dai vicini o se sarà necessario manderò il banditore per le strade per dare un avviso di una bambina smarrita così dicendo il bravuomo pieno di buon cuore si avviò verso la piccola damigella bianca con le migliori intenzioni del mondo ma violetta e papavero afferrando ognuno la mano del padre lo supplicarono ansiosamente di non farla entrare in casa papà caro esclamò violetta mettendosi davanti al padre quello che ti ho detto è vero questa è la nostra bambina di neve e non può vivere se non respira il vento freddo non farla entrare nella stanza calda si papà giudò papavero battendo il piedino in terra tanto faceva sul serio questa non è che la nostra bambina di neve non le piacerà il fuoco caldo sciocchezze bambini sciocchezze sciocchezze scramò il padre in parte infastidito e in parte ridendo di quella che considerava la loro ridicola ostinazione correte a casa subito è troppo tardi ormai per giocare ancora io devo occuparmi immediatamente di questa bambina o si buscherà un raffreddore da morire marito mio marito mio caro intervenne a bassa voce la moglie che avevo osservato più da vicino la bambina di neve ed era più perplessa che mai vi è qualcosa di molto strano in tutto ciò mi giudicherai sciocca ma non può essere che qualche invisibile angelo sia stato attirato dalla semplicità e dalla buona fede con cui i nostri bambini si sono messi all'opera non può essere che abbia voluto trascorrere un'ora della sua vita giocando con questi due tesori e ne è risultato quello che noi chiamiamo un miracolo no no non ridere di me capisco anch'io che è un'idea molto sciocca mia cara rispose il marito ridendo di cuore sei ancora una bambina come violetta e papavero e in un certo senso era proprio così per tutta la vita e l'aveva serbato il cuore colmo di una semplicità e una fede infantile pure e chiare come il cristallo e guardando tutte le cose attraverso questa trasparenza vedeva talvolta verità così profonde che gli altri ne ridevano come di cose sciocche o assurde ma allora il premuroso signor Lindsay si era avanzato nel giardino liberandosi dai figliuoli che lo supplicavano ancora con le loro vocine acute di lasciare la bambina di neve a godersela nel freddo vento di ponente al suo approssimarsi gli uccelli presero il volo anche la piccola damicella bianca si ritrasse scuotendo il capo quasi per dire non mi toccate ve ne prego e attirando l'inseguitore non senza malizia a quanto sembrava dove la neve era più alta una volta il buon uomo inciampò e cadde bocconi e nel rialzarsi con la neve attaccata alla ruvida stoffa del cappotto parve bianco e gelido come un enorme fantoccio di neve e intanto alcuni vicini vedendolo dalla finestra si domandavano che cosa avesse preso il povero signor Linzai per correre così nel giardino dietro a un mulinello di neve che il vento spingeva qua e là finalmente dopo molta fatica egli riuscì a cazzare la piccola strana in un angolo dove non poteva assolutamente sfuggirgli era quasi sera e la moglie che stava a guardare fu colpita nel vedere che la bambina di neve luceva e scintillava e sembrava diffondere attorno a sé un alone luminoso nell'angolo dove era stata spinta splendeva veramente come una stella ed era uno scintillio freddo come un ghiacciuolo sotto la luna la signora Linz si trovò strano che il marito non vedesse nulla di notevole nell'aspetto della bambina di neve vieni qua strana bambina esclamò il buon uomo prendendola per mano ti ho presa finalmente e ti farò star bene tuo malgrado metteremo un bel paio di calze di lana calde sui tuoi piedini gelati e avrai un bello scialle pesante per avvolgerti ho paura che il tuo povero nasino bianco sia proprio congelato ma lo riscalderemo bene vieni dentro e col più benevolo dei sorrisi sul volto perspicace tutto rosso dal freddo quell'uomo bene intenzionato prese per mano la bambina di neve e la condusse verso la casa ella lo seguì avvilita e di malavoglia tutto lo splendore e lo scintillio era scomparso dalla sua figura se poco prima somigliava a una sera limpida gelida e ingemmata di stelle con un riflesso purpureo sul freddo orizzonte ora appariva opaca e languida come il disgelo mentre il buon signor Lindsay la conduceva su per i gradini della soglia Violetta e papavero con gli occhi pieni di lacrime che si congelavano prima di scendere giù per le guanze lo guardarono in viso e di nuovo supplicarono il padre di non portare in casa la loro bambina di neve non portarla dentro esclamò il buon uomo ma sei pazza mia piccola Violetta proprio pazzo mio minuscolo papavero è già così fredda che la sua mano ha quasi gelato la mia pur con i miei grossi guanti volete che muoia siderata mentre gli saliva i gradini la moglie aveva dato un altro lungo sguardo attento e quasi timoroso alla piccola estranea candida non sapeva neppur lei se fosse un sogno ma le parve di vedere sul collo della piccina l'impronta delicata delle dita di Violetta sembrava proprio che nel modellare la figura Violetta avesse dato un leggero colpetto con la mano e avesse poi dimenticato di levigare del tutto la traccia dopo tutto mio marito disse la madre tornando alla sua idea che gli angeli avrebbero giocato volentieri quanto lei con Violetta e Papavero dopo tutto mio caro marito disse la madre tornando alla sua idea che gli angeli avrebbero giocato volentieri quanto lei con Violetta e Papavero dopo tutto somiglia in modo strano a una figura di neve io ci credo che sia fatta di neve una folata del vento di ponente investì la bambina che di nuovo rifulse come una stella neve ripetè il buon signor Lindsay tracinando l'ospite restia verso la sua soglia accogliente non c'è da meravigliarsi che sembri fatta di neve è mezzo assiderata povera piccina ma un buon fuoco rimetterà ogni cosa a posto senza altri discorsi animato sempre dalle migliori intenzioni quell'individuo pieno di benevolenza e di buon senso condusse la candida damigella avvilita sempre più avvilita al riparo dell'aria gelida nel suo confortevole salotto una stufa di heidelberg piena fino all'orlo di antrecite che bruciava intensamente diffondeva un vivo riflesso attraverso il finestrino di mica nello sportello di ferro e faceva fumare e ribollire l'acqua del vaso posato vi sopra un odore caldo e opprimente dilagava per tutta la stanza il termometro sulla parete più lontana della stufa segnava quasi 27 gradi il salotto apparato di tende rosse alle finestre e con un tappeto di uguale colore sul pavimento sembrava caldo anche all'apparenza tra l'aria di quell'inverno e il freddo crepuscolo invernale al di fuori la differenza era tale che pareva di passare improvvisamente dalla nuova zembla alla regione più calda dell'india o dal polo nord in un forno eh era proprio il luogo migliore per la piccola sconosciuta uomo di buonsenso mise la bambina di neve sul tappeto proprio dinanzi alla stufa che fumava ora stare bene esclamò il signor Lindsay stropicciandosi le mani e guardandosi intorno col più allegro sorriso che non si sia mai visto fa come se fossi a casa tua cara bambina la piccola damicella aveva un'aria triste triste e avvirita mentre se ne stava in piedi sul tappeto investita dal soffio caldo della stufa come da una pestilenza una volta gettò un'occhiata di nostalgia alle finestre e attraverso le tende rosse intravide i tetti coperti di neve le stelle che brillavano gelide e tutta la deliziosa intensità della notte fredda il vento rigido tamburellava sui vetri quasi invitandola ad uscire fuori invece la bambina di neve rimaneva avvilita dinanzi alla stufa calda ma per l'uomo di buon senso tutto procedeva bene or su disse alla moglie mettile subito un bel paio di calze grosse e uno scialle di lana o una coperta e di ad ora di darle un po' di cena calda appena il latte bolle e poi violetta e papavero fate divertire la vostra amichetta vedete com'è malinconica perché si trova in una casa estranea quanto a me farò un giro tra i vicini per rintracciare la sua famiglia la madre intanto era andata in cerca di uno scialle e delle calze per quanto fine e delicato il suo modo di considerare il fatto aveva acceduto come sempre all'ostinato realismo del marito senza badare alle rimostranze dei figli e a loro continuo a mormorare che alla sorellina di neve il caldo non piaceva il buon signor Linzi si avviò chiudendosi con cura alle spalle la porta del salotto rialzò il bavero del cappotto fin sulle orecchie e uscì dalla casa non era appena arrivato al cancello del giardino che fu il chiamato dalle grida di violetta e papavero marito marito gridava la signora mostrando attraverso i vetri un viso inorridito non occorre andare in cerca dei genitori della bambina l'avevamo detto papà gridarono violetta e papavero appena egli fu rientrato nel salotto hai voluto portarla dentro e adesso la nostra povera cara bella sorellina di neve si è liquefatta e le loro care faccine erano già sciolte in lacrime tanto che il loro papà vedendo quali strane cose accadono talvolta in questo prosaico mondo ebbe una gran paura che anche i suoi due bambini potessero liquefarsi al colmo della perplessità chiese spiegazioni alla moglie ma ella pote dirgli soltanto che richiamata in salotto dalle grida di violetta e papavero non aveva trovato altre tracce della bambina bianca se non i resti di un mucchio di neve che davanti ai suoi occhi si erano liquefatti interamente sul tappeto ed ecco lì tutto quel che rimane aggiunse indicando una pozza d'acqua dinanzi alla stufa si papà confermò violetta guardandolo con aria di rimprovero attraverso le lacrime ecco tutto quel che rimane della nostra sorellina di neve cattivo papà gridò papavero battendo il piede in terra e tremo a dirlo scuotendo il pugno verso l'uomo di buonsenso ti avevamo detto che sarebbe accaduto perché hai voluto portarla in casa e la stufa di heidelberg attraverso il finestrino di mica dello sportello di ferro sembrava fissare il buon signor linsei come un demonio dagli occhi di fuoco trionfante per il male che aveva commesso questo direte voi fu uno dei rari casi che pur talvolta accadono in cui il buon senso ha torto l'insolito racconto della bambina di neve pur se sembri cosa poerile a quella specie di sagaci persone cui appartiene il signor linsei si presta non di meno a trarne in vari modi una morale a tutta loro edificazione una delle sue lezioni per esempio potrebbe essere che è dovere degli uomini e specialmente degli uomini benevoli considerare bene le cose cui si accingono e prima di agire per i loro filantropici fini essere ben sicuri di comprendere la natura e tutte le relazioni di quel che hanno per le mani ciò che è assodato come un elemento di bene per un essere può riuscire assolutamente dannoso per un altro così il calore del salotto si confaceva abbastanza a bambini di carne ed ossa quali violetta e papavero sebbene non fosse affatto molto salubre neanche per loro e invece comportava addirittura l'annientamento per la sfortunata bambina di neve ma infine non vi è nulla da insegnare ad uomini saggi dello stampo del buon signor lindsey sanno tutto o certo tutto ciò che è stato e tutto ciò che è e tutto ciò che per ogni possibilità futura debba essere e se qualche fenomeno della natura o della provvidenza dovesse trascendere il loro modo di pensare essi non lo ammetterebbero mai moglie disse infatti signor lindsey guarda quanta neve hanno portato a casa i bambini attaccata alle scarpe ha formato una vera pozzanghera qui davanti alla stufa ti prego di adora di portare degli strazzi e di asciugarla grazie grazie